La storia non è finita Grande fratello VIP, Cecilia piange per Francesco, la storia non è finita Grande fratello VIP, Cecilia Rodriguez ripensa a Francesco Monte? Lacrime amare. Questo sì che è un vero e proprio colpo di scena. Cecilia Rodriguez sembrava essersi lasciata alle spalle Francesco Monte e la loro storia, durata ben quattro anni. In ogni caso, le cose non stanno esattamente così. . Dopo la diretta di ieri sera, condotta come sempre da Ilari Blasi e Alfonso Signorini, la sorella di Geremia spare aver avuto alcuni brutti pensieri. La ragazza sembra essere tornata a riflettere sulle decisioni prese nel corso di queste ultime settimane, arrivando a versare anche qualche altra lacrima. . A quanto pare, la donna non riesce ancora a fare a meno di pensare a ciò che il suo ormai ex fidanzato possa dire di lei dopo tutto ciò che è accaduto. . A consolarla ci ha pensato come sempre suo fratello che, in qualche modo, ha cercato di schiarire le idee della sua amata. . . Cecilia torna a piangere per Francesco al grande fratello VIP, ripensamenti in vista?. . Cecilia ha paura di ciò che Francesco possa pensare di lei e non riesce a smettere di essere dispiaciuta per lui. . Di fronte ai dubbi e alle parole di sua sorella, Geremias ha detto la sua su tutta questa contorta vicenda. . Per il Rodriguez è giusto che la donna si faccia così tante domande, ed è convinto che solo in questo modo avrà modo di capire cosa prova realmente per Monte e cosa per Ignazio Moser. . Insomma, la bella concorrente del grande fratello VIP sembra essere ancora sopraffatta dalle emozioni e da tutto ciò che è accaduto all'interno della casa questi ultimi giorni. . . Grande fratello VIP, Cecilia tra Ignazio e Francesco, cambierà idea. . . Seppur stia male per ciò che ha fatto al suo ex fidanzato, Cecilia pare ancora convinta delle scelte fatte. . . In ogni caso, l'esperienza all'interno della casa è destinata a durare ancora un po' e da qui alla fine del reality potrebbe accadere ancora di tutto. . Una cosa è certa, se mai tornasse da Francesco, lui non sembra disposto a perdonarla. . . . . . . . . .